In mezzo! In mezzo, pirro! Dov'è? No, ma l'avete già rotta! E' qua, è qua! Dov'è? Ma c'è un pezzo! Ma io porto! Cioè, è già finito il gioco? Abbiamo messo 100.000 euro, poverissima! C'è gente, c'è gente! Sì, ho capito, ma fammi vedere! Sì, che è... è geniale! Abbiamo registrato tutto! Mattia, sei caduta come un pirla! Ah, che male! Ce l'ha costo la rotta! Ultima dichiarazione! Che male! Una palla in macchina, qualcuno? Oh, dei vassoi! Oh, dei technology! Questa crisi avvile? E nessuno?